Però lui ti dava una grande sicurezza, effettivamente faceva le prime volte che ci sono andato al Costanzo Show avevo molta emozione anche perché non sono proprio un personaggio televisivo, diciamo non ero pronto però lui mi dava tranquillità. È un punto d'arrivo? Era un punto d'arrivo il Parioli? No anzi, spesso è stato un punto di partenza per moltissimi, quasi tutti gli artisti italiani dobbiamo qualcosa a Costanzo. Vincenzo, se poteste fare una chiamata oggi a Maurizio, cosa gli direi? Lo saluterei con grande affetto.